Bella a tutti ragazzi, eccoci tornati in questo nuovo video. Ragazzi, oggi siamo nel quarto episodio mi sembra, quarto episodio di Clash of Clans. Ragazzi, non imitatemi se il mio villaggio fa un po' schifo, ma non è colpa mia. Poi dovrei fare questo al municipio al livello 5 e vediamo se riesco perché con 650.000 ci dovrei arrivare. Sì, ci sono arrivato di brutto, quindi facciamolo. 12 ore, andiamo nell'altro, nell'altro oro, e la madonna, andiamo ad attaccare qualcuno di qua. Non lo so se li battiamo, eh. Ah, perché non sono andati su? Ma sono andati i babbi, i barbari, ma fanno schifo i miei barbari. Dai, li buttiamo giù il comune, lì, il municipio. Bella. Cioè, i suoi barbari è incappati. Ragazzi, scusate, sono un po' raffreddato. Mai. Cosa vi sto dicendo? Ah, vi ringrazio per i 50 iscritti. 50 iscritti. Davi Alfio, sai già cosa sto intendendo? Fai schifo, Davide? Te lo dico proprio con tutto il mio cuore. No, non posso. Devo averlo a livello tra, ma io lo faccio a livello... Non posso, devo... Devo... Devo comprare questo trappale mille. Ok. Perché artefatti? 50 iscritti e domani farò lo speciale 50 iscritti dove io farò il bagno nella piscina che sta diventando verde adesso, sta diventando ma non tanto. E Ili, da casa mia, cioè da qua, all'oratorio che saranno 800 metri, in bici, in montande. Vedrete tutto domani. E spero che ci siate, ovviamente, però ora che lo facciamo, lo facciamo martedì, martedì sera ci dovrebbe essere. Torniamo all'altro. Andiamo. Non sto, non sto... Oh, oh, c'è questo. Prendi. 9000, buono. Consigliatemi che mossa è, eh? Perché questo è così? Madonna. Consigliatemi cosa devo fare. Vediamo cosa mi è arrivato. Vediamo il replay. La tua divisa ha perso il 100%. No. Vediamo, no? Vediamo come mi ha distrutto sto qua. Allora, qui. Bolla mossa. Aspetta, sposto un attimo la webcam. 46.000 gli ho dato. Vabbè, sono forti, però, eh. Buttate giù uno, due. Vabbè. e mi hanno battuto un po di barbari tutti giganti adesso vediamo una dove ho vinto guardiamo uno che ho vinto la tua difesa vinto qua beh se i giganti copri nei barbari grazie li vinco si vabbè li ho disintegrati ma i poveri barbari stanno morendo vabbè non ha fatto neanche così tanto male cioè non ha fatto intendo neanche così tanto male proprio c'è non è che ha fatto schifo l'attacco che ha fatto però il mortaio lì in mezzo che fa malissimo guarda ammazza tutti niente ragazzi il video è tutto qui e noi allora aspetta fatemi parlare perché mi mangio un po le parole io scusate allora grazie per i 50 iscritti anche se sono un po' cioè truccati adesso se per i 50 iscritti e scusate per il raffreddere che continuo a fare così così ma vabbè e niente mettete like condividete il video commentate così capisco giochi del clan vabbè e niente il video è finito qui e ragazzi noi ci becchiamo alla prossima bella ciao 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 Grazie.